ragazzi vi ricordo iscrivervi al canale di attivare la campanellina tutto gratis stasera ore 21 e 30 circa faremo una live io posso dire solamente una cosa quando si fanno le finte di corpo no nel calcio e si mettono a sedere i difensori ce l'hai presente fmb che stasera su 3 metterà a sedere tutti i detrattori perché poi avremo modo anche di far vedere che queste cose sono comunque certificate e che vengono dette tramite della documentazione di giornali stranieri di economia quindi fmb stasera dirà delle robe di oltre che non ha mai detto nessuno ma che sono documentate quindi stasera tutti a sedere come brilli provare per credere io non sono uno che fa proclami perché non mi è mai piaciuto fare i programmi di guardi là provare per credere ascoltate quello che dirà effembre su 3 e capirete che chi fa comunicazione su youtube a pagamento oltre a prendervi in giro con i 27 miliardi di nomi non ha mai saputo nulla su cosa realmente stesse facendo o 3 vuoi la riprova viene in live tanto non spendi nulla è gratis se ti va a mettere un like se ti piace la live altrimenti ascolti e poi dopo me lo dici a fine live se t'ho detto unazza anche perché questi personaggi dagli americani a battagliare un anno per gli americani sono passati ad invest corp tutti è tutto tutto il gruppetto là da invest corp erano passati ai catarioti e ora lo sai dove sono finiti sono finiti a difendere zang zang non molla never give up capito ora sono tornati tutti da zang sperando in rifinanzia perché perché l'importante per loro è che non arrivino gli arabi all'inter questi pregherebbero si venderebbero si venderebbero l'auto pur di far sì che zang potesse rifinanziare sono lì che sperano che zang rifinanzi purtroppo ragazzi zang è diventato l'incubo del 90 per cento dei tifosi dell'inter indipendentemente da quello che ti ha fatto vincere di far riconosciuto ma a che prezzo abbiamo vinto quelle cose là perché ora non solo dopo le sconfitte fortunatamente le vittorie sono sempre tante ora che dopo le vittorie si continua a parlare di questo zang che se ne deve andare che l'inter deve tornare ad avere un progetto bla 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 ora questi sono si sono riabbracciati da zang praticamente sono hanno fatto tutto il giro e sono ripartiti da dove erano partiti da difendere zang agli americani poi dopo investcorp poi dopo investcorp e catarioti l'importante è che non fossero gli arabi che diciamo noi e ora sono tornati da zang hai capito che gente che è questa samarzic io su samarzic lo sai il giornale rosa stamattina boom l'inter è tornata sul samarzic innanzitutto bisogna chiedergli con quali soldi prendi samarzic tra l'altro quando si parla della situazione finanziaria dell'inter bisogna ricordarsi anche tutti i pagherò che sono stati fatti perché poi questi giocatori vanno pagati chi le paga non lo so dov'è il cinese ma chi li paga tutti questi giocatori presi a pagherò li pago io li paghi te o le paghi i cinesi come le paga i cinesi con i fiorini li paga samarzic te l'ho già detto giocatore clamoroso fantastico che gioca guarda te lo fa con la sciamatta che gioca con la suola guarda quei vecchi numeri 10 gestivano la palla con la suola guadagnano un tempo sono fortissimi ho solamente un dubbio io su samarzic il ritmo un po' compassato che ha perché è vero giuse tiago motta sono i primi a dirti ma te lo ricordi tiago motta la veloce di testa ma dal 2010 ad oggi il calcio si è si è velocizzato molto ragazzi capito cioè c'è molto di più rispetto a 15 20 anni fa l'esaltazione dell'atleta fisio che abbina l'intelligenza tattica la tecnica capito ora viene esaltato un po' più la te l'atleta rispetto a 15 20 anni fa capito e si è perso un po' di tecnica o i gesti tecnici e vedevi fine anni 90 inizi anni 2000 non le vedi più quindi l'unico dubbio che ho io di samarzic è questo ritmo un po' compassato soprattutto poi parlando della fase di un possesso dove lui potrebbe avere qualche difficoltà sto parlando del gioco di inzaghi attenzione stai calmo ma lo prenderei subito sama dice attenzione cioè lo vado a prendere a piedi io sensi sensi è fino a fatto giuse sensi ragazzi se io c'ho un'idea su sensi ne parlavo anche prima con michele cioè sensi ha un problema fisico è inutile negarlo ma la differenza tra la grande squadra e la piccola vuole lei una delle tante differenze di stare in una grande squadra e di stare in una piccola squadra con tutto rispetto per il monza dove lui l'anno scorso comunque ha fatto 23 presenze e 4 gol nel monza ma giochi una volta a settimana non giochi tre volte a settimana e la differenza sta proprio lì la differenza sta nell'impostazione della preparazione perché nella grande squadra hai un'impostazione di preparazione diversa soprattutto per per vincere i big match ci sono molti più appuntamenti nella grande squadra rispetto alla piccola squadra e l'iter fa una preparazione per vincerle tutte capito quindi c'è una preparazione fisico mentale di un certo livello che secondo me sensi non non tiene ecco qual è il problema di sensi calciatore che adoriamo tutti ce lo ricordiamo tutti ve lo ricordate a barcellona cosa combinò sensi con parrucca un conte però ragazzi purtroppo non gioca mai vuol dire c'è qualcosa che non va quindi stasera verso le 21 e 30 live con il team ok qualcuno salirà dopo per impegni di lavoro vedrete che fmb con altri finalmente metterà tutti a sedere anche perché poi dirà cose che sono documentate quindi è tutto capito dimostrabile quello che dirà fmb perché ha trovato della documentazione non in italia ha trovato della documentazione che poi dopo alla fine vi farà smettere di dire tutte le cazzate a pagamento che avrete detto perché i primi ricordatelo bene i primi che avete preso che hanno preso in giro i tifosi dell'inter da lukaku rimane all'inter da da asta tipo scelsi dagli americani cordate italiane lazri bertarelli turkish i primi hanno preso in giro i tifosi dell'inter e non solo i primi che hanno speculato sull'inter chiedendogli addirittura i soldi e siete stati voi e non siamo noi ciao inter